Si è conclusa oggi a Palazzo Reale a Milano la quattro giorni dal titolo fondata sul lavoro alludendo all'articolo 1 della nostra Costituzione relativo alla Repubblica. Gad Lerner ha moderato un incontro tra economisti, imprenditori, sindacalisti e politici sui temi dell'occupazione, dell'articolo 18, del rilancio del nostro paese e delle politiche economiche di equità. C'è chi sostiene che l'Italia sia sempre più un paese costellato da imprese povere gestite da imprenditori ricchi. È stato portato l'esempio degli esodati, se ci sono i numeri, vale a dire se ci sono le possibilità economiche per accontentare queste persone, allora di conseguenza ci sono anche i diritti, mentre se i soldi non ci sono, svaniscono anche i diritti. Una cosa del genere è un fatto nuovo per il nostro paese che pone notevoli interrogativi per il futuro. Imprese private e istituzioni devono sempre più creare accordi e patti per cercare di rendere meno dura la situazione occupazionale, soprattutto dei giovani. Noi abbiamo chiuso da poco un bando con Camera di Commercio, volto alla stabilizzazione dei contratti precari e all'incentivazione di nuove assunzioni. Con grande successo stiamo preparando altre iniziative sia del Comune che congiunte con Camera di Commercio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che c'eravamo prefissi, quello di fare una discussione lunga e approfondita su tutti i problemi del lavoro, che sono tanti purtroppo perché viviamo in un momento di crisi, ma soprattutto perché per tanto tempo questi problemi sono stati abbandonati, non sono stati curati. Ma secondo lei nonostante il periodo di crisi le opportunità esistono? Io credo che quando si innova le opportunità esistono. Ci sono ancora delle imprese che non chiudono, ma che anzi crescono. È chiaro che questo è un momento molto difficile, difficile per gli uomini e per le donne, se ne esce insieme.